Sindaco Latini, insomma, un bel pomeriggio direi con tanti propositi da parte anche del Presidente Bandecchio comunque il suo intervento mi è sembrato veramente qualcosa di straordinario. Tanti propositi, soprattutto mi sembra un progetto ambizioso per la città, non soltanto in campo sportivo quindi è una sfida che è stata lanciata, dobbiamo essere in grado di coglierla ovviamente sono state in qualche modo enunciate in sede di conferenza tutte quelle che sono le possibilità ma anche le difficoltà che ci sono nel progetto però credo che per la città di Terni sia qualcosa di particolarmente importante quindi è un'occasione che dobbiamo riuscire a portare sicuramente in buca e se i tempi poi sono quelli che ci hanno detto, se riusciamo a farla entro il centesimo anno potrebbe essere qualcosa di particolarmente importante. Lei è particolarmente ottimista su come andrà a finire la vicenda clinica stadio? Io sono un ottimista di natura, quindi per quanto riguarda le questioni della mia città perché credo molto nelle potenzialità della città, credo molto in quello che si può fare quando tutti quanti remono dalla stessa parte, quindi senza interessi partigiani ma semplicemente pensando al bene della nostra Terni abbiamo tanto bisogno di pensare al bene della nostra Terni e pensare al bene della nostra Terni significa essere orgogliosi di essere cittadini ternani e questo implica che nel momento in cui c'è l'orgoglio c'è la voglia di portare avanti tutti quegli progetti che possono essere così sfidanti e ambiziosi per la crescita della nostra comunità. Ambizioso soprattutto anche oltre a quello dello stadio a cui interessa tutti gli sportivi, i tifosi ma mi sembra particolarmente ambizioso il progetto della clinica con Bandecchi che si è lasciato andare a parole davvero di grande progettualità. Sì, è una clinica insomma che se si riuscirà a fare ovviamente andrà a implementare quella che è l'offerta, l'erogazione dei servizi sanitari e questo è un qualche cosa di importante anche per noi perché significa ulteriore crescita e ulteriore occasione di sviluppo del nostro territorio che deve fondare i propri percorsi di crescita anche su quelle che sono le offerte dei servizi. I servizi sanitari sono un tema fondamentale perché c'è in ballo la salute delle persone c'è in ballo la salute dei cittadini però sono anche quei momenti in cui si può pensare di sviluppare proprio anche dal punto di vista economico le nostre comunità quindi sono occasioni di lavoro, sono occasioni di ricerca perché anche questo è un tema che il Presidente ha tirato fuori oggi e quindi ci sono tante cose da dire e il progetto anche clinica perché noi spesso ci concentriamo ovviamente sullo stadio è sicuramente importante anche per questo. Per riferirci rispetto ai tempi, Sindaco, il plico bello grosso, pesante è arrivato questa mattina per essere protocollato naturalmente ci saranno una serie di verifiche da fare prima della trasmissione in Regione. Sì, sì, occorrerà innanzitutto verificare il contenuto la rispondenza della documentazione a quelli che sono i criteri normativi la rispondenza della progettualità rispetto a quelle che sono le previsioni di legge e poi, come mi sembra evidente, verificato che ci sono una competenza regionale trasmettere tutto quanto quello che è arrivato in Regione perché convochi la conferenza di servizi decisoria. E questo compatibilmente con quelle che possono essere il lavoro degli uffici che in questo momento sapete che sono in super lavoro per tutti i progetti PNR che arrivano come tutte le grandi progettualità però sarà guardato con particolare interesse cercando di restringere per quanto possibile i tempi perché comunque sia l'interesse di tutti riuscire ad arrivare quanto prima all'esito di questa procedura. Noi la prima parte l'abbiamo fatta addirittura anticipando di alcuni giorni quelle che erano le tempistiche di legge ve lo ricorderete quando è stato dichiarato il pubblico interesse prima in Giunta e poi in Consiglio quindi è ovvio che il progetto è complesso perché è arrivato adesso a febbraio e la complessità del progetto impone anche delle verifiche abbastanza complesse però insomma cercheremo di fare sicuramente come sempre facciamo il massimo per andare incontro a quello che è l'interesse della città. Senti, anche a livello politico, questo è un grande momento sono un imprenditore che ha disposto di invertire tanti sono i soldi del PNNR quindi per dire per voi un grande impegno ma anche una grande carta da giocarsi una carta da giocarsi più che una carta da giocarsi è un'enorme occasione che non possiamo farci sfuggire sotto nessun punto di vista io tante volte lo ripeto anche ai miei colleghi anche quando ho l'occasione di confrontarmi con tutte le persone che magari si occupano della materia noi in questo momento dobbiamo fare in modo di non perdere neanche un'occasione neanche un euro non è facile perché la complessità delle procedure è talmente tanta e l'esiguità delle risorse anche dal punto di vista del personale insomma spesso costringe a ritmi serrati chi lavora però io devo dire che sia dal punto di vista degli assessori e sia dal punto di vista dei tecnici posso contare veramente su persone di valore quindi quando si affrontano alcuni temi sono sicuro della loro capacità, del loro spirito di abnegazione della loro capacità di dedicare tutto loro stessi a quello che è il bene della città e poi avete la spinta di 18.000 firme dei tifosi mica non si possono sottovaldare no, questo senza considerare tutti gli altri diciamo 90.000 cittadini ternani che vedrebbero sicuramente di buon occhio la realizzazione di un'opera pubblica importante come quella dello stadio per tutte le occasioni che dicevamo possono svilupparsi intorno e anche della clinica perché insomma c'è in ballo la salute delle persone e anche della clinica di un'opera pubblica e anche della clinica di un'opera pubblica e anche della clinica di un'opera pubblica